ciao a tutti bentornati amici amiche di quinta dimensione letture questa è la presentazione comprensiva di istruzioni della meditazione per entrare nel tuo registro akashico che avevo promesso avrei messo in modo completamente gratuito su questo canale e così è quindi procediamo con le istruzioni poi vi faccio vedere un libro molto adatto che mi piace molto per spiegarvi bene per leggere di più per chi vuol sapere di più sul registro akashico poi vi metto una frase anche di crayon che vi permette di connettervi concentrarvi che vale sempre non solo per il registro akashico e poi faremo anche una carta ma non adesso questa ve le presento solo ve le faccio vedere che farò nei prossimi video in questo canale quindi rimanete comunque sintonizzati che fa parte dell'oracolo delle vite passate creato da dorine virtù e brian vice dorine virtù la conoscete tutti come canalizzatrice angelica poi c'è brian vice che il famoso medico che ha scritto anche molti libri psicologo che fa appunto regressioni nelle vite passate di cui potete trovare una meditazione proprio di brian vice nella playlist che si chiama meditazioni sul mio canale quinta dimensione letture velo girata è la sua chiaramente non è la mia dove appunto si parla di vite passate e qua ha aiutato in collaborazione con dorine virtù alla diciamo alla stesura di questo bellissimo mazzo che lo faremo prossimamente in altri video allora per iniziare le meditazioni come tutte le meditazioni questa non è da meno si iniziano sempre con il rilassamento quindi fate prima di andare a fare la meditazione fate tre respiri profondi molto profondi dopodiché seguite le istruzioni passo passo di quello che io dico la meditazione è fatta con la mia voce ed è creata da me quindi dentro la meditazione troverete anche una frase di tenka che ci connette immediatamente con i registri akashici non c'è solo quella ce ne sono anche altre ma non in questa meditazione cristiano tenka aiuta moltissimo proprio nella connessione con le sue parole e formule magiche comunque anche per esempio che sono insegnante di reiki anche alla connessione velocissima con l'energia reiki qua invece in questa meditazione per entrare nel registro akashico c'è proprio una frase che vi connette immediatamente al registro akashico molto molto bella seguitemi quando io dirò ripeti insieme a me o dopo di me quello vedete voi se parlare piano piano sopra la mia voce o poco dopo la mia voce la tempistica ve la fate voi vi consiglio di andarla a sentire prima una volta questa meditazione senza farla ascoltatela vedete quello che dico come lo dico quanto tempo avete per fare le cose comunque non vi preoccupate perché poi ci sono oltre le spiegazioni mie con la voce mia che vi guido ci sono anche dei minuti di pausa comunque alcuni minuti per poter fare quello appunto che io vi dico di fare nella meditazione quindi ci saranno durante questi quasi 23 minuti di meditazione ci saranno delle dei minuti con delle guide da parte mia vocali e poi degli spazi vuoti con solo musica di sottofondo per fare appunto quello che dico nella nella spiegazione vocale allora dovete anche capire che comunque è una meditazione molto diciamo è particolare quindi ci sarà chi magari un pochino più esperto riuscirà magari ad accedere al proprio registro akashico subito a tanti ci vorrà del tempo quindi non prendete niente per definitivo si riprova magari ogni giorno chi proprio non riesce consiglio di fare tutti i giorni anche 10 15 minuti per provare a connettersi va bene poi andare proprio alla meditazione completa va bene perché comunque tanti ripeto riuscirà velocemente a tanti no quindi non è un problema dopo un nome scrivete a me non funziona quello funziona quello sia meno perché perché normale perché così è non è che una cosa non funziona dipende da chi la fa e allo stesso tempo nella quinta dimensione non c'è chi è bravo chi non è bravo c'è semplicemente un grado di evoluzione quindi il tuo è tot quello di quel signore là è un altro quello di quella signora là è un altro quindi non c'è nessun problema ognuno è esattamente dove deve trovarsi adesso in questo momento va bene sottolineo ancora che questa meditazione vale per te stesso o per te stessa per entrare nel tuo registro akashico perché questo è richiesto va bene non per entrare nei registri degli altri perché ci sono delle formule diverse è una meditazione diversa quella che adesso qua non interessa qui prima di fare i passi più lunghi della gamba si deve provare con se stessi assolutamente fino ad arrivare ad un grado di diciamo di maturità personale di evoluzione di energia così potente dove tu ti riesci a connettere così velocemente che poi puoi passare eventualmente agli altri ma questo lo vedremo eventualmente più avanti allora che altro dire è una meditazione quindi ripeto molto relax molto respiro focalizzatevi molto sul respiro e seguite semplicemente è molto semplice non è niente di che ragazzi qua c'è solo da seguire le indicazioni ripeto se non riesce nessun problema la si deve fare bisogna provare la costanza viene premiata piano piano riuscirete riusciranno tutti c'è appunto crayon questa entità canalizzata da lee carroll che ci dice adesso ti do una frase che va bene sia prima di iniziare la meditazione ma va bene qualsiasi giorno sempre una frase bellissima dove siccome si parla di libero arbitrio e appunto bisogna dare l'input no come quando dico agli angeli dategli il permesso anche qua bisogna dare l'input al tuo sei superiore all'universo fargli capire che tu sei una persona che desidera un cambiamento vero e quindi dai il permesso va bene per far accadere quello che deve accadere della serie apro le braccia accada quel che accada son pronta son pronto a tutto ok per poi per riviverlo ok e poi lasciarlo andare quindi guarire questo significa guarigione va bene non bisogna avere paura della guarigione allora questa è la frase molto buona ripeto se avete delle note scrivetevela da qualche parte perché fa parte proprio di un percorso come io sono come altre cose che è buona regola fare sempre tutti i giorni anche che dice questo caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere e con questa frase andate proprio a dare l'input alle energie superiori e dite va bene ok sono pronta sono pronto e vale per tutto non solo per questa meditazione ma per questa pure va molto bene allora poi vi consiglio infine questo libro eccolo qua che è di Kryon appunto sempre a cascia umana alla scoperta del registro dell'anima viene dalle canalizzazioni sempre di Lee Carroll che canalizza questa entità del servizio magnetico che si fa chiamare Kryon e questo l'ha fatto una sua collaboratrice che si chiama Monica Murani ok un'altra lemuriana diciamo dove ha raccolto le cose migliori dalle canalizzazioni di Kryon quando parla della cascia è veramente bello dice nel profondo della vostra acacia c'è un serbatoio infinito di saggezza ed esperienza siete invitati ad andare là e a reclamarle va bene questa delle edizioni stazione celeste molto 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 bello devo dire però non voglio togliere nulla anche ad altri libri sempre validi che ci sono comunque sulla cascia cercate anche voi magari che cosa potrebbe ispirarvi che cosa può essere buono secondo voi vi leggo velocemente cosa dice così perché parla proprio della cascia ricordo appunto la meditazione è gratuita e anche Kryon parla di questa cosa del discorso business che c'è dietro l'ho voluta proprio mettere perché non esiste che ci sia un business per andare nel proprio sei superiore non cadete in queste cose il registro akashico ve lo dovete leggere voi perché meglio di voi non c'è nessuno quando andrete a vedere una vostra vita passata e chiedere guarigione per quella vita perché questo faremo con la meditazione in pratica andiamo a rivivere e chiediamo all'universo di mostrarci la vita passata che sta bloccando questa vita presente e di mandare energia di guarigione a quella vita in modo che non blocchi più e non interferisca più sulla tua attuale esperienza su questa terra quindi sulla vita di adesso che sei venuta o venuto a fare adesso sulla terra quindi se c'è qualcosa che ti sta bloccando e viene da una vita passata lo andiamo a guarire vediamo allora qua per spiegare velocemente così dice nel dna avete il vostro registro akashico personale che cosa avete fatto su questo pianeta quante volte siete stati qui quali sono le energie che avete già sperimentato le vecchie anime possiedono qualcosa che pochissimi esseri umani hanno e che nessuno ha quando arriva per la prima volta avete un registro ogni singola energia di ogni singola vita rimane nel dna eppure le vite non si presentano come una pila di dischi che deve essere letta da un lettore akashico coloro che leggono quelle che voi chiamate vite passate leggono le energie non le vite passate perché si trova tutto sulla superficie mescolato pronto per essere visto e letto le più profonde di tutte le vite passate che avete vissuto solo in cima perché sono tutte insieme non c'è nessuna gerarchia gli umani vogliono vederle in fila organizzate per data e le vedono una dopo l'altra gli esseri umani si rivolgeranno al lettore di vite passate domandando la lettura costerà di più se la vita che mi interessa è più vecchia divertente lineare proprio ora molti di voi si stanno risvegliando a una delle vite più profonde che abbiano vissuto la prima quella lemuriana lemuria è esistita per migliaia di anni come la più antica e duratura civiltà del pianeta una civiltà che non ha un riconoscimento storico sommersa per sempre alla base della montagna che voi oggi chiamate hawaii nell'oceano pacifico volutamente l'umanità non dovrebbe andare ad estrarre le cose che fanno parte della storia della creazione vi influenzerebbe vi darebbe un po troppe informazioni il problema è questo riuscite a trovare ciò che è sepolto dentro di voi questa nuova energia può essere vista come uno strato della buccia di cipolla che viene rimossa non soltanto dal pianeta ma da voi gli strati vengono eliminati in modo da poter iniziare a vedere quella che è la cascia in voi questo spiega perché così tanti di voi stanno iniziando a sentire delle cose in questo cambiamento qua parla sia dei libri di telos parlando di lemuria ricordatevi il video dove parlo dei libri di telos che parla appunto della civiltà di lemuria e tutto quel bellissimo mondo insomma andate a vedere il continente di lemuria cos'era e chi erano i lemuriani e parla anche del fatto che uno si va a rivolgere come dicevo prima ad un lettore di registri acascici ma non solo c'è addirittura chi diventa poi diciamo lettore di corso di registro acascico perché il corso ti ha formato il corso ti ha dato il diploma cosa proprio assurda tant'è che anche gli esseri di luce dicono queste cose questa è una cosa personale tramite meditazione questo è un tuo se va bene tutto per carità può essere fatto chi vuol fare altre strade le faccia pure ma deve capire l'essenza di tutto questo l'energia primordiale ed essenziale che ce l'hai tu è il tuo se superiore la tua cassa va bene e quella tu la puoi interrogare tranquillamente nessuno ti deve dare l'ok nessuno ti deve dare il diploma perché sennò tu non puoi entrare nella tua cassa senza diploma non esiste questa cosa va bene e tra l'altro ha imparato a leggerla da soli comunque la cassa è gratuitamente anche con questa meditazione ripeto chi non riesce lo faccia e la costanza la faccia più di una volta la costanza ti premierà va bene riuscirai poi faremo prossimamente anche queste queste carte oracolari delle vite passate andremo a estrapolare un po quella che potrebbe essere una o più vite passate tue che magari stanno influenzando allora ricordo a tutti la playlist nuova di questo canale che è meditazioni va bene dove c'è anche appunto la meditazione di brian vice per andare nelle vite passate o come dice craio le energie in realtà e poi c'è anche la playlist del suono om no il suono sacro dell'universo il suono primordiale anche lì sarebbe bene magari prima di iniziare questa meditazione di arrivarci già rilassati non è che possiamo fare la meditazione del registro acasico se smettiamo a lavorare alle 20 e 30 alle 20 e 40 ci mettiamo a fare la meditazione no non è possibile questa cosa bisogna prepararsi quindi preparatevi pure i respiri mi raccomando recitate la frase di crayon che dice quello che avevo detto prima caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere anche tre volte caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere va bene e così poi ci sarà un'altra frase dentro la meditazione che vi connetterà anche con la vostra cascia una frase in latino va bene per questo video di presentazione e istruzioni ho terminato vi auguro un bellissimo viaggio dentro voi stessi dentro la vostra acascia dentro il vostro registro acasico e dentro le vostre energie del vostro se superiore dove c'è tutto quello che desiderate sapere continuate a seguirmi qua su quinta dimensione letture per altri contenuti di crescita personale e spirituale grazie a tutti ciao e buona meditazione